Ha pennellato un po' di gente, ok? Lei arriva da London, che è qua vicino a Busto Arsizio, si chiama Vicky, l'applauso lo facciamo perché il body painting, la rana, la rana, bellissima, bellissima, e Vicky continuerà con il body painting sempre in questa area, da questa parte, quindi complimenti l'espressione della rana, non abbiamo più i giudici per poter decretare, tu che parli bene l'inglese, quanto tempo? How much time did you... Two hours. Wow, due ore raga, due ore che va avanti per fare sta cosa, favolo. Sì, 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 ma loro non lo vedono, ma i jeans sono pitturati, non sono veri, sono due ore per fare i jeans. Grazie, 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 grazie Vicky.